Si rientra a casa e gli Zengabò tornano a Milano. Ragazzi vorrei chiedervi una cosa, perché oggi abbiamo viaggiato, cioè non oggi ma da quando ci conosciamo, e Rosy si lamenta che io uso la radio in macchina, non ho un bluetooth e non ho un cd e quindi mi rendo conto che può essere pesante ma l'opportunità di beccare delle canzoni tipo Infinito di Raf o gli 883 alla radio, la gusto quando la trovi quella canzone lì, è proprio una soddisfazione. Sì ma infatti senza il tipo di cambiare continuamente stazione andrebbe anche bene. Eh ma per cercare le canzoni più rare, quindi si lamentate. Però io sono team radio proprio fisso, sono l'unico. Voi? Non posso avere dentro? Ciao a tutti! Guardate con chi sono! Ciao! Ciao! Sono oggi nel mentre ci siamo fatti un pranzetto insieme e sono troppo felice di arvi riviste dopo un po' di tempo. Anche noi! Seratona stasera! Allora oggi Rosy mi ha messo sotto per le pulizie di casa quindi sono distrutto. Si è impegnato ragazzi. Sembrava il sergente quello di un full metal jacket. Amore ma non è vero? Sì. Bene amici è finito il video. Adesso vi voglio sempre ricordare di iscrivervi al canale e attivare la campanella, mettere il vostro like perché così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video. Mi raccomando noi ci vediamo molto presto da Tano TV.